Bisogna saper perdere, si dice. Quante volte ce la siamo sentita dire o ce la siamo detta questa cosa? Sì certo, il concetto è bellissimo, saper fare autocritica. Ma noi ce ne sbattiamo dell'autocritica. Ti bocciano a un esame perché hai studiato solo tre giorni prima e sei stato sei mesi senza fare una mazza? Non eri impreparato. È il professore che ha uno stronzo. La tua squadra perde la finale The Champions? Non è perché hanno giocato undici sonnambuli. È l'arbitro che ha un cornuto. Ma quale saper perdere per gli italiani la filosofia di vita di fronte alle sconfitte e appioppare la colpa a qualcun altro? Sempre. E se parliamo di cose più serie, impattanti, come ad esempio le guerre? Ah beh, lì la cosa cambia, eh? Nel senso che peggiora. Peggiora di brutto. Come avrete notato, nell'ultimo periodo c'è una certa agitazione nell'aria. In Italia sì, ma io direi nell'Occidente tutto. Tanto che più che occuparsi attivamente della questione ucraina, si sembra più interessati a intensificare la caccia arcorpevole. Caccia arcorpevole che era già partita da tempo, eh? In realtà quasi da subito. Almeno da quando non si riuscivano proprio a spiegare come cacchio facesse a rimanere in piedi la Russia che aveva finito le munizioni e che aveva i soldati che dovevano utilizzare le dita come baionette. In spiegabile, quindi era palese. La colpa era dei filoputignani. E adesso, ancor più di prima, i filoputignani sono ovunque. C'è un'infestazione d'este creature. E passi al caso Iorit, ma quando abbiamo scoperto che pure il Papa era uno de' loro, è stato francamente troppo. Anche se io, per beneficio del dubbio, glielo concederei. Perché secondo me quello non era il Papa. Era una maschera. Se gli tiravano la faccia durante l'intervista, sotto c'era Orsini. Oppure era il camaleontico Prigocin perché se lo guardi bene, guarda come gli somiglia. Eh, se Pudine ce può avere i cloni, perché il Papa no? Io non lo escluderei. Anzi, Corriere della Sera, e te so danno spunto. Vedi se ce vuoi scrivere uno di quegli articoli come solo tu sai fare. Se so, tutti agitati perché il Papa ha fatto intendere che la guerra è persa. E ne ha seguita un'ondata di indignazione che se avesse bestemmiato durante l'Angelus l'avrebbero accettato meglio. E sta rabbia si è riversata ovunque, pure qui su questo canale. Anche se, devo ammettere, con delle valide motivazioni tipo Eh, avete sempre remato contro. Come se le guerre si perdessero perché da casa c'è chi non ha messo la bandiera dell'Ucraina sulla fotoprofilo, che quella se sa è la condizio sine qua non per vincere sul campo di battaglia. Insomma, c'è una certa agitazione, una parte d'Italia si è rianimata e se vogliamo con atteggiamenti ancora più focosi di prima. Ma ce saranno perché. Io pensavo che fosse stata la morte dei Navalni, e invece no. Perché figurate, qui in Italia non siamo buoni a indignarsi per più di 48 ore consecutive? Eh, mi stava diventando troppo lunga per i parametri dell'italiano standard. Pure perché l'80% di quelli che hanno acceso i lumini per Navalni non sapevano manco chi era Navalni. Quindi sta prolungata indignazione per Navalni non me quadrava, mi usciva dai parametri. Fino a che non ha parlato il papa, e allora lì ho capito. Mi sei accesa la lampadina e mi sono detta, vuoi vedere che questi stanno a fare come nella seconda guerra mondiale? Che siccome abbiamo perso, mo se devono inventare qualcosa per dire che non abbiamo proprio perso perso, eh. Al massimo abbiamo pareggiato. E stanno preparando il terreno. Un terreno che passa prima per dare la colpa a tutti. Corpa a De Pabble, De Orsini, De Travaglio, De Di Battista. Sta specie De Voltron filoputiniano. La colpa a tutti, tranne a chi la colpa ce l'ha davvero. Per poi piano piano cominciare a delineare una postura diversa rispetto a quella tenuta finora. Ma alla fine, ma perché no? E mica è una novità, questa è una tecnica collaudata. In tutto l'Occidente è, ma noi siamo campioni olimpici. Intanto che il fallimento è in corso, si va avanti a oltranza. E mica te possono dire che se so sbagliati, so fanno. A prossima volta ne pierà più sul serio nessuno. Quindi tira dritto perché qualcosa deve succedere per forza poi. Ma nel frattempo te cominciano a lanciare una parolina lì, una parolina qui. Che se all'odore dei pannolone cominci a sentire l'odore dei ceroni arancione, almeno poi ce se può tirar su qualcosa. Un fuggito esempio di questa tecnica, passato completamente in sordina ieri, sono state le dichiarazioni di Crosetto. Che ha detto delle cose che mi hanno convinto che, ma allora lo vedi? Che lo sentono l'odore dei fondotinti arancione nell'aria? Alle denunce di Zelensky, che parla di rifornimenti troppo lenti, Crosetto ha esplicitamente dichiarato che si tratta di temi che lui ha sempre messo sul tavolo. Ma che si può fare? La conversione della Russia in un'economia di guerra la rende più attrezzata e agile di quella della Nato. Aggiungendo che bisogna pensare ad altri metodi per aiutare l'Ucraina, come ad esempio attivando con maggior forza le vie diplomatiche. Allora lo vedete che siamo nella fase che non abbiamo proprio perso-perso, abbiamo pareggiato. Ma è veramente lo stesso Crosetto che diceva che sarebbe stato un errore drammatico fare un passo indietro sugli aiuti all'Ucraina? Perché altro che passo indietro, qui siamo tornati a quello che avremmo dovuto fare sin dall'inizio. Di cui la proroga degli aiuti per il 2024 costituisce una concreta testimonianza. La strada per correre è ancora lunga, ma un passo indietro adesso sarebbe un errore strategico e politico. Che ci parlava di come avremmo aumentato la produzione di munizioni? Quello che annunciava trionfalmente l'invio dell'ottavo pacchetto? Crosetto, ministro del governo Meloni del con l'Ucraina fino alla fine? Ma ne è che niente niente pure lui c'ha una maschera? Che se gliela levi sotto ci trovi sempre Orsini? Oppure sempre Prigocin perché se guardate bene è pure lui esomia? Ma che strano. Ma come la Russia non aveva più munizioni, le dita come baionette? Ma come la Russia più produttiva della Nato? Per due anni ci avevano detto che la Russia stava per esaurire le armi, che stava rischiando di rimanere a secco. Lo diceva il mattino, il messaggero, Euronews, tutti. Russia ha secco di risorse, non ci sono i ricambi per i soldati per garantire la rotazione delle forze dispiegate in Ucraina? Russia, risorse belliche quasi esaurite. In Sai Dover che si domandava ma quante risorse avrà ancora Mosca, visto che i costi enormi e le enormi perdite di mano d'opera, lo spreco di armi e attrezzature militari, diceva, come fa a completare in maniera efficace la mobilitazione se le sue risorse iniziano a scarseggiare? E questo era il dubbio che attanagliava gli analisti, eh? Estraevano i chip dai frigoriferi e le lavatrici? Combattevano con le pale, cazzo? E adesso con nonchalance ci dite che sono più produttivi della Nato? Lanciata così, nel mucchio? In realtà saremmo tutti interessati ad approfondirle queste dichiarazioni di Crosetto. Primo, perché è la prima volta che sentiamo dire che bisogna attivarsi nella diplomazia in due anni, non l'avete mai usata sta parola. Ed è una roba che avrebbe dovuto rimbalzare ovunque, perché per due anni avete detto l'esatto contrario. L'esatto contrario pure su sto fatto delle armi. E quindi a petto di sto cambio di passo, di cui avrebbero dovuto parlare tutti, ci siamo dovuti esorbire come scoop della giornata invece gli articoli di Open. Open che si è messo a faccecare un post di Iorit di quando regalò il quadro al Papa geolocalizzando il Vaticano, dicendo il post però è di quattro mesi fa e la geolocalizzazione è falsa. Ah, beh, pure io ho fatto un video parodia sul Papa geolocalizzando Isengard. E a sto punto speriamo che non me faccegano, anzi, prima che lo fanno loro, mi confesso io, Isengard non esiste. È una falsità. Ma lo vedi allora che piano piano qui e lì stanno piazzando dichiarazioni tattiche, per tenesse la via d'uscita pronta? Così possiamo fare la parte degli italiani, quella proprio che ci compete per storia. Quella che noi, quando mai, con Biden, ma per carità, si arriva il parruccato biondo, gli diremo che siamo stati tenuti in ostaggio, che lui ci ha liberati. Perché noi non perdiamo mai, al massimo pareggiamo. Come diceva Churchill, strano popolo gli italiani, 45 milioni dei fascisti e il giorno dopo 45 milioni dei partigiani. Proprio come il 25 aprile del 45. Perché dire che ci hanno liberati fa meno brutto di dire che noi quella guerra l'avemmo persa. Gli alleati americani per cui mostriamo tanta riconoscenza erano alleati, sì, ma di quell'artri. Pure noi ce l'avevamo un alleato, ma era quello sbagliato. Ci hanno liberati, non è che ne siamo usciti sconfitti. Questa memoria collettiva è stata alterata e manco poco. Perché se vai a chiederlo in giro, la percezione che ha la gente è che noi la seconda guerra mondiale l'abbiamo vinta. Un sentimento comune costruito abilmente a tavolino per lavasse la faccia di fronte alla storia. E con questo, attenzione, non sto delegittimando la resistenza, ma sto raccontando quello che è stato. La parola sconfitta noi non la pronunciamo mai. Come era per la Grecia, spezzeremm le reni. Quella frase se la ricordano sicuramente tutti, se fa un po' più fatica a ricordare che in realtà le reni ce l'hanno spezzate a noi. Com'era Ela Lamein nel 42? Mancò la fortuna, ma non il valore. Perché chiamarla centinaia di morti ammazzati, provocati da un'avventata dichiarazione di guerra, fatta per risultare brillanti agli occhi del baffetto, pare brutto. Un esercito mandato a morire senza mezzi, male equipaggiato. Vendendo all'opinione pubblica una vittoria fulmina che poi si è tramutata in un massacro, anche lì pare brutto, no? E quindi è stata la mancanza di fortuna, non la conseguenza di scelte criminali. E questi sono tutti esempi nostri, eh? Storia nostra. Storia nostra è dell'Occidente tutto, che storietaggio delle guerre giuste se lo trascina dall'alba dei tempi. Da Omero alla Terra Santa, fino alle guerre contemporanee. E le guerre noi non le perdiamo mai, non possiamo perderle mai. Perché se le nostre guerre sono giuste, e i giusti siamo noi, e le dobbiamo vincere queste guerre. Perché se le perdi poi, che me vuol dire che non eri tu e il giusto? E quante volte non siamo stati i giusti della storia? E me sa che pure stavolta proprio noi i giusti non siamo. Anzi, me sa che qui i giusti non ce stanno proprio. Per questo il Papa ha fatto tanto clamore, per aver detto tra l'altro la cosa più banale che un Papa nel suo ruolo potesse dire. Ecco perché hanno perso tutti la testa. Ma non è una bestemmia dire che una guerra persa è persa. È una bestemmia di fronte a una sconfitta evidente e continuare a sacrificare vite inutilmente. È una bestemmia aver raccontato menzogne per anni. Aver provato a trascinare l'Europa nella Terza Guerra Mondiale. E aver spinto tra l'altro sulla base di totali falsità. Quelle sì che so bestemmie, le frasi di Crosetto so bestemmie. Voi avete mai visto il film di Tarantino Bastardi senza gloria? Dove Brad Pitt interpreta il comandante Aldo Reyn che nella sua attività di caccia ai nazisti chiede a uno di questi che cosa farà quando la guerra sarà finita. E quello gli risponde che tornerà a casa e brucerà la divisa da nazista. E lì Aldo Reyn gli dice Eh no, sta cosa non ci piace affatto. Così tu te togli la divisa e nessuno saprà mai chi sei stato. E questo non va bene. Ecco, io nel tempo, vedendo di che cosa è stata capace la gente in questi due anni, io la filosofia di Aldo Reyn comincio a capirla. Ma non per vendetta, che onestamente è un sentimento che non mi è mai appartenuto. Ma trovo insopportabile che per due anni ci sia stato chi ha portato avanti una fanfara pericolosa. Due anni in cui è stato dato a tutti quelli che chiedevano diplomazia delle merde. Dopo che hanno denigrato, ridicolizzato, accusato. Dopo che hanno spinto e spinto, giocando sulla pelle di un popolo, quell'ucraino, e mettendo in pegno la nostra di pelle. Dopo averci riso in faccia, chiamato pacifinti. Parlandoci di diplomazia oggi, dopo aver fatto un po' troppe morti. Dopo aver mentito, bleffato, inventato notizie di sana pianta. Svenduta una nazione in tutta la loro pericolosità. Beh, a me non mi sta tanto bene che sentendo la rietta del cambio dei padrone si finisce tutti a tarallucci e vino. Non mi sta bene che la storia non ve condanni, non ve dia un giudizio. E cambiando due paroline la storia se scordi che c'è stato qualcuno che sta guerra l'ha attifata. Trattando tra l'altro chi voleva la pace come un criminale. Non mi sta bene che con colpo di spugna si cancellino le differenze tra pacifisti e guerra fondai. La storia è un giudizio, ve lo deve dare. Perché sarà pure arrivato il momento di farci i conti con le sconfitte. Così non dico tanto per nobili ideali, eh. Ma anche solo per convenienza, per non sbagliare. La prossima volta, speriamo che non ci sia una prossima volta pure se vi siete messi del buzzo buono per farne esplode centinaia delle prossime volte. Per dubbio dico, eh. Provate a schierarvi dalla parte della pace. Da subito, però. Così state tranquilli che quella parte lì dei sconfitti non ne fa. E nessuno ve obbligherà a fare i conti né con le sconfitte e manco con voi stessi. Ciao! 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 Ciao!